Ciao a tutti, cosa manca a me dell'Alante? Tutto, arrivare, abbracciare la segretaria, parlare con i miei alunni, ridere, scherzare insieme a loro, mangiare insieme a loro, ridere con i miei colleghi, assolutamente tutto. Dell'Alante mi manca il mate con gli alunni, mi mancano i colleghi e mi manca la biblioteca. Bueno, les mando un beso a todos e lo que más extraña dell'Alante es el día a día con todos nuestros compañeros. Cosa mi manca de Alante? La scala. Perché da quel metro de altezza io vedo tutto, quelli che arrivano in ritardo, quelli che sono seduti aspettando l'orario della lezione, il rumore della macchina de caffè, però soprattutto mi mancano i baci e gli abbracci fra noi. Prima di tutto, quello che diciamo in Argentina, la buona onda dei miei compagni. In italiano come si dice? Il mio lavoro è quello giusto. Mi manca tantissimo entrare in aula e interagire con i miei allievi e anche le pausse il caffè con i miei colleghi e amici. La dante, la biblioteca, ese espacio que hay donde se encuentran todos, los secretarios, los profesores, los alumnos, esa presenza è extraña. Lo che è più extraño, a parte di a miei amici e colegi, è poter recebire a nostri alunos tutti i giorni in nostra casa, così che, bueno, spero che pronto podamos volvere a compartire tutto questo. Mi mancano i momenti condivisi, mi manca l'aria italiana che respiriamo una volta che attraversiamo quella porta, mi mancano anche i rumori dei passi, dei ritardatari, gli occhi storti quando devo spiegare una lezione nuovo, un argomento nuovo, e, insomma, tutti i momenti condivisi, le canzoni, i video, le risate, gli scherzi, quindi, beh, mi mancano tantissime cose. Cosa mi manca della dante? Mi manca il contatto con i miei alunni e con i miei colleghi e le mie colleghe. Mi manca il campanello, perché il campanello è quell'elemento che annuncia e preannuncia l'arrivo degli alunni e di tutti noi. E cosa mi manca? Che te devo dire? Mi manca il suono della vostra voce. Ecco cosa mi manca. Ciao, ciao a tutti ragazzi. Che dire, che mi manca della dante? Avete detto tutto voi, no? Mi mancano gli studenti, mi manca la bibliotecaria, mi mancano le segretarie, sì, mi mancano le colleghe, mi mancate tutti, mannaggia, spegni, spegni. Oh, cosa mi manca della dante? Che è proprio dietro di me. Mi mancano le risate a crepapelle di tutti gli alunni in classe. Mi manca l'abbraccio con i miei colleghi. E a te, cosa manca?